Dopo mesi che comunque la si voglia vedere sono stati davvero duri per lo sportivo, in molti si preoccupano per le condizioni psicologiche dell'uomo, in riferimento naturalmente ad Alex Schwazer. Dopo la battaglia persa contro la IAF la condanna allo stop per altri otto anni una sentenza che sancisce la fine delle competizioni per il marciatore altoatesino. La sua reazione fa pensare e in molti gli hanno espresso solidarietà e incoraggiamento, a partire dal governatore dell'Alto Adige, Arno Kompascher, che su Facebook gli scrive «Caro Alex, tutti i tuoi tifosi si auguravano di vederti in gara alle Olimpiadi di Rio e anch'io ci ho sperato fino alla fine. Spero che tu riesca ad affrontare questo momento difficile con la forza dell'atleta». Lui, Schwazer, appare svuotato, malinconico, pensieroso e senza alcuna voglia di rilasciare dichiarazione alla stampa, così è apparso anche nella mattinata di venerdì all'arriva l'aeroporto di Fiumicino da Rio. Sullo stesso aereo viaggiavano i due medagliati olimpici, Elisa Di Francisca, Argento nel fioretto individuale e Marco Innocenti, Argento nel double trap. Accompagnato dal suo allenatore, Sandro Donati, il marciatore al totesino è transitato nello scalo romano e a chi ha provato a rivolgergli delle domande ha risposto educatamente «Scusate, ma non ho voglia di parlare». Dopodiché, mentre nello scalo stava per aver inizio una festa a sorpresa per Di Francisca e Innocenti, preparata da parenti e amici, arrivati con striscioni e bandiere tricolore, Schwazer ha ritirato il bagaglio e ha lasciato l'aeroporto per raggiungere Vipiteno in treno. Ma se il destino del marciatore, come detto, era segnato con una sentenza già scritta, come si era lasciato sfuggire il suo avvocato e l'accalimento nei confronti dell'Azzurro, abbandonato dalla federazione, è stato notevole, ora bisognerebbe stare vicino all'uomo, un ragazzo di 31 anni che ha perso tutto. Come spiega, più di molte parole, questa foto scattata in un bar di Rio che ritrae lo sguardo perso di Alex solo, del campione che è stato non è rimasto molto, c'è solo un ragazzo in lacrime, resta un ragazzo distrutto.